C'è il Casavigio, c'è il Casavigio. Dai Roberto, dai. Dai, dai Roberto. La battaglia si sposta dal Parlamento alla piazza. La battaglia si sposta dal Parlamento alla piazza. No come? Come Grillo? Ragazzi, non mi fate male perché mi arrabbio. Ti è detto? Io e Walter. Che cretina che sei.